Sharon, tu sei alla Pixar da sempre. Hai lavorato come supervisora dell'illuminazione nel primo Toy Story, fino alla direzione della fotografia del più recente film Cars 2. Come si è evoluta in questi anni la fotografia all'interno dei film digitali? Penso che probabilmente il miglior cambiamento che ho visto è che le strutture, i nostri processi e le nostre capacità hanno fatto in cui possiamo collaborare con l'unico molto più facilmente, e prendere i nostri film a un livello più alto di quello che abbiamo potuto fare cinque anni fa. Ci sono dei modelli appartenenti al cinema su pellicola a cui ti ispiri nel tuo lavoro? Ci sono molti cinematografici che mi hanno influenzato durante i anni. Vittorio Storaro è ovviamente un grande cinematografico, Conrad Hall, Caleb Deschanel, ovviamente Roger Deakins, e c'è una lunga lista di persone che admiro. La tua passione nasce fin da bambina. Cosa consiglieresti a coloro che volessero intraprendere una carriera simile alla tua? Cosa credo che la cosa che vorrei incoraggiare le persone a fare la maggioranza, è fare la maggioranza di ogni opportunità, e non non vedo un progetto o un lavoro che è dietro, e fare tutto quello che hanno fatto il meglio che possano essere, anche se sembrava come qualcosa di più piccolo, e che avvicinare le persone che puoi cercare, e che avvicinare le persone più difficili più difficili.